Musica L'associazione culturale Bioforme presenta una festa d'arte, Bioformisti in mostra. Il 14 giugno con ITKP in Milano Arramengo solo andata. Il 14 giugno l'Inventa TV, canzoni a 32 denti. Domenica 16 giugno presentazione del libro La saggezza dell'improvvisazione. E per finire la Siliana, saggio di flamenco. E do tutto questo dove? Di Siliana Osta numero due. E per finire la Siliana, saggio di flamenco. Tutto questo dove? Di Siliana Osta numero due. Bisogna avere un regno! Bisogna avere un regno! Bacco! Bacco! Dentro al segno! Bacco! 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 Grazie a tutti.